Anna Falchi, un ritorno graditissimo al Magna Grecia Film Festival, nella veste di presentatrice, nella veste di produttrice, ancora vicino al nuovo cinema italiano. Sì, senz'altro, infatti sono molto felice per la nonna edizione del Magna Grecia Film Festival perché raccoglie il meglio del futuro del cinema italiano e sono qui appunto in veste di madrina, come hai detto te presentatrice, avremo anche una finestra su Rai 1 il 9 agosto alle 22.45 e benvenga un po' di pubblicità al nostro cinema. Come racconterai su Rai 1, la nostra terra e questo festival? Beh, noi siamo appunto qua, il centro della Magna Grecia, con la grande rappresentanza di un sito archeologico molto importante, quindi è un grande scenario e soprattutto il calore del pubblico che sostiene come sempre Magna Grecia Film Festival. Ti chiedo solo un saluto per gli amici di Soveratiamo.com, partner del Magna Grecia Film Festival, per diffondere anche sul web questa manifestazione. Un saluto a tutti coloro che seguono Soveratiamo.com e mi raccomando continuate così, buona estate.